Nel calcio, lo dico per introdurre il prossimo ospite che è un ritorno, Andrea Signorini, dirigente del Misano, io nella didascalia però insomma è un po' limitativo perché Signorini è un nome che vuol dire tante cose a Misano per il calcio e non solo, allora ieri un gol strano, quello di Marina, è dire che il centesimo gol in casacca misanese, ne ha fatti di più belli. Sì, ne ha fatti di più belli, doveva essere proprio così per fare il centesimo, era un po' di domenica che ci provava, però magari anche Marina fa quei gol lì perché magari un altro giocatore non ci sarebbe andato, invece lui ci ha creduto ed è gol anche quello. Ma senti Andrea, siete stati più fortunati voi incontrare Marino o Marino incontrare il Misano dopo questi tre anni di fidanzamento? Tre anni, penso che sì. Perché Marino arrivava da un momento così così. Io dico sempre che se lui veniva anche l'anno prima forse non saremmo retrocessi visto che gli avevamo chiesto di venire a Misano anche l'anno prima, però naturalmente lui in quel momento ha fatto una scelta diversa, adesso ha sposato il nostro progetto e penso che l'importanza di Marino non sia solamente quella che fa in campo ma ormai è un uomo della società e quindi su di lui ci puntiamo molto anche per il futuro. Assolutamente sì, tant'è che l'abbiamo soprannominato il sindaco a testimonianza di come ci sia questo legame con Misano.